Salve amici del Centrometro Italiano, ultima settimana di settembre che vedrà ancora l'alta pressione sull'Europa. Ecco allora la tendenza aggiornata. Tra lunedì e martedì circolazione depressionaria con goccia fredda in quota in isolamento tra Italia e Grecia. Condizioni di tempo ancora instabile sulle regioni del sud mentre altrove avremo un deciso miglioramento e un rialzo delle temperature. Per la seconda parte della settimana principali modelli mostrano che è ancora un vasto anticiclone disteso sul vecchio continente mentre il flusso perturbato scorrerà più a nord. Poche variazioni anche nel weekend a cavallo tra settembre e ottobre ma qui la distanza temporale inizia a farsi più elevata. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.